Ludovico De Luca, sindaco di Qualeano, ha deciso di intraprendere una battaglia quella contro l'evasione fiscale. Che cosa sta mettendo in campo? No, noi non è che abbiamo deciso di intraprendere una battaglia contro l'evasione fiscale ma semplicemente intendiamo far pagare le tasse a chi fino adesso non le ha mai pagate. In questo senso ci siamo attivati per ricercare i grandi evasori. Di certo non rincorriamo la vecchietta che non arriva a fine mese rispetto alla quale sicuramente avremo attenzione ma coloro che fino adesso non so per quale motivo non hanno pagato è arrivato il momento di pagare. Una delle prime attività le stiamo facendo anche nei confronti del parco che è nelle immediate vicinanze di Qualeano il quale abbiamo visto che sono diversi anni che non paga penso che da questo momento in poi inizierà a pagare e credo che ci deve ad oggi 60-70 mila euro che ci darà in breve tempo. Quali sono le strategie che state mettendo in gambo per trovare chi non paga soprattutto da anni? Metteremo in atto una sorta di incrocio con le altre banche dati in particolare con quella dell'Enel, con quella del Catasto perché ci sono persone che non pagano l'Imo anche in questo caso per fabbricati di 10-20-30 appartamenti e questo non è consentito perché ripeto ancora una volta quello che non arriva a fine mese è un conto e va trattato in un modo quello che ha 20 appartamenti non paga va trattato in un altro modo. Questi soldi che potreste introditare serviranno per dare più servizio ai cittadini? Questi soldi serviranno a risanare il bilancio dell'ente il quale come risaputo è deficitario e quindi sicuramente si tratturrà poi in maggiori servizi ai cittadini.